Vi ricordo di seguirmi su Instagram che mi chiamo Miki-Bassolato2206 Di iscrivermi al mio canale se siete nuovi e state vedendo questo video per la primissima volta Di attivare la campanellina delle notifiche così Da rimanere sempre aggiornati sui video che escono Che altro? Ah si 3, 2, 1, intro E ciao a tutti i laddersi Io sono Miki-Bassolato2206 e oggi siamo ritornati in un nuovissimo episodio di Minecraft per le certezze il secondo Allora, nello scorso episodio che cazzo avevamo fatto? Oltre a prendere il fantastiliardo di carbone Sì che ne erano 41 Erano 41 pezzi di carbone Mi ricordo E vediamo un poco 41 pezzi di carbone 40 E vabbè Ok perfetto Stare Ok Usciamo da qua sotto Perché Ho soltanto Attualmente non c'è il fatto di farmi una pala quindi scaverò con le mani E si attualmente casa mia è un buco Però fatemi fare una cosa prima eh Se mi dispiace prima devo fare una cosa molto importante Oltre a creare una spalla Non mi ho trovato altro carbone vero? Ok no Stranamente non sta dando scatti di lag pesanti No è strano che non ne stia tanto proprio Eeeh Ok di là ho scavato tutto Eeeh Bon Ho iniziato dormendo Perché vedendo con la terza persona Baggando tutto Dovevo farmi una spada Però sono scemo Un Ticato E si Tutto Facciamoci una spada Così i mob non ci possono venire a stuprare Tanto verrà stuprato comunque La 1.14 Minecraft è bella Perché Sì Spero di trovare altro ferro Molto altro Ma poi basta che schifo E dopo aver trovato molto ferro Porco cane Grazie Dopo aver trovato del ferro Che mi servirà per fare La prima armor Siccome di fare la palla Non ne ho voglia Perché sono piglio Come voi Non già sapete Vero di Minecraft Salve signora pecora Posso dirle una cosa Mi servono le sue carni Eeeh No Non ho toccato questo mondo Finché Ero Off Finché Ok sì Insomma Finché Io Tipo dovrei farmare Del cibo Un esempio Di una delle cose Che dovrei fare Come ho già detto Sono pigro E anche tanto Però ora Non mi ricordo più Dove La mia quale casa Magnifico Ci rivediamo fra poco Allora Casa L'ho ritrovata Va bene Che altro Devo trovare Ultrano Caverna Ultrano Ultrano Caverna Che altro Devo trovare Che la caverna Mi serve Tanto Perché in caverna Farmo come Non come un disennato Ma peggio Visto che i minerali lì Non è che spawnano proprio sui piedi No No proprio no Bene Siccome mi servono le carni Via da ammazzare gente Perché devo fare un po' di caccia Potrei far giù anche una farm di carne da zucchero Effettivamente Però Quando uno non mi la sbatti Sì ma magari colpisce La mucca Alla Qui c'è tutto quel carbone Mi sono fatto anche un po' di livelli Per segnare casa mia E per trovare una caverna Ci vado da dio Sì magari Mi scliccassi Sì qua ho chiuso Però Ora Ora Mi diverto io Fuck yeah Sì sono un tipo molto strano Molto solo Rip 12 Ok Che devo fare Alte torce Facciamo torce a non finire Che belli Di minecraft Vero Questi carbone Me lo terrò Tanto mi trovo Forse questa Sì l'ho tappato Nel primo episodio Vero Sorry Non ho tappato un cazzo qua È un dungeon Così Subito il primo episodio C'è che la radio C'è la radio Intanto spacco qua il mob spawner Cioè trovare subito il dungeon No rega che fortuna Subito il dungeon Sono tre o Cinque ragni Forza venite Forza venite Ah cazzo che male Comunque ho trovato Veramente un sacco di roba Vero C'è Non era una miniera Era un dungeon Però C'è Boh Ora fammi prendere Questo libro incantato Queste altre corde Le ossa Figliamo anche la redstone Tanto Poi qua La gunpowder La redstone L'altra name tag I semi Caranu Boh O studiate i sapling Anziaple Mi chiuso Bene Posso già farmi il cane Ora Siccome io devo tornare a casa E si sta facendo buio anche Direi di rivederci tra pochissimo Adesso posso farmi l'acqua E la canna da pesca Rip C'ho già l'acqua per farmi le robe Bella così Chiudiamo qua E Ci si rivede a casa gente Eccoci di nuovo a casa C'è Bella per il momento casa Però questa non si può definire casa Vedete Roscinde Oru E chi se lo stesse chiedendo Ma io ma mi sto chiedendo una cosa Perché sono scemo Porca Capitana Quasi non potento Mi crolla il mondo addosso E muro Per soffocamento Si muro Non so più parlare italiano Ok Poverete Non ho trovato nulla La parte del La parte del La parte D'altro ferro Che a proposito Adesso metto a smaltire Smaltire Legale Sta roba A fare Faccio una bella Furnace Buttiamo un attimo Il panino Tranquillo Signor pane La riprenderò Fra poco Ok Perfetto Ora Mettiamo Il carbone Qua dentro Con Il ferro Uiretero Scinde Orun Noni Bella così Allora Siccome Mi serve La cesta E ce l'ho già Grazie a Dio Grazie a Gesù Grazie Chezza Non so parlare Bene E qua Inizio a posare Le robe Come il salmone Crudo Che poi Cucerò Le carote Le miele Che trasformerò In vincente In apple C'è In mele d'oro Sono scemo Però Non sono messo Male col cibo Posso un po' Tutti i materiali Posso farmi Un altro panino Se voglio Potrei farmi Anche l'arqua Anche le frecce Se per questo Finchè non trovo Un cane Queste ossa Ci sono Completamente Inutili A parte per la Bon mille Che quelle Vabbè E Bon Penso di aver Preso tutto Ok Bon Andiamo Vamo vedere Conte il ferro Va bene Ok Mi devo fare I primi pezzi Dell'armatura E basta Cioè Mi sa Che devo farmi Solo i primi pezzi Dell'armatura No Cazzo Va bene Posso farmi La spada in ferro Però so che non è ancora Troppo presto Posso farmi Due piccoli in ferro Però è molto presto Ancora Per il momento Va bene Così Quindi Andiamo a cercare La miniere Guardate un po' Qua cosa ho trovato Ok Che lì c'è l'altro ferro Mi conviene però Mettermi con le spalle Al muro Pezzare la torcia E Quella miniera La esplorerò Ovviamente Off camera Anzi quella cave E Probabilmente Mi vedrete Con una full armor Il prossimo episodio Di una full Una full iron armor E Ovviamente Spero che questo video Vi è piaciuto Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un commentino Mi piace Iscrivete Per il canale Se siete nuovi Mi state prendendo questo video Per la prima volta Lasciate un Lasciate un grandissimo Mi piace Arriviamo a 5 Mi piace Continuiamo Stasera Tanto la continuo Comunque E Outro Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.